Mi viene in mente quello che ha detto Kennedy nel suo discorso alla nazione, non chiedete quello che il vostro paese può fare per voi, ma quello che voi potete fare per il vostro paese. Ed è in quest'ottima che abbiamo improntato tutta la nostra campagna elettorale e quella che sarà la nostra azione di governo.